Se siete alla ricerca di un'applicazione per investire in Bitcoin in modo semplice e sicuro questa applicazione fa per voi perché oggi voglio parlarvi di Inviti Inviti è un'applicazione che è stata lanciata da Satoshi Labs, il creatore di Trezor anche quindi stiamo parlando di un'azienda importante nel settore crypto e soprattutto ragazzi come scritto qui ci permette di iniziare il nostro viaggio nel mondo crypto in modo intuitivo, sicuro e accogliente per acquistare, vendere e risparmiare Bitcoin quindi ragazzi adesso voglio farvi una panoramica generale dell'applicazione tramite il sito ma vi mostro anche l'applicazione come funziona dal telefono perché è fatta davvero molto molto bene quindi iniziamo subito però prima di iniziare come al solito basta lasciare un mi piace per supportarmi è davvero fondamentale e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nulla ora ragazzi iniziamo subito l'applicazione in questione si chiama Inviti come ho detto prima possiamo scaricarla tramite l'App Store oppure tramite Google Play come al solito ragazzi tutti i link sono qui in basso in descrizione di questo video così in un click arrivate diciamo direttamente all'applicazione senza cercarle e perdere tempo cosa fa questa applicazione? c'è possibilità di comprare e vendere c'è anche possibilità di inviare e ricevere risparmiare in Bitcoin perché c'è la possibilità del dollar cost averaging che permette di investire una somma specifica ogni due settimane ogni mese in Bitcoin e nel lungo termine è il miglior modo diciamo per realmente fare profitto e abbiamo anche un'interfaccia user friendly che tra poco vi mostro un'altra sezione molto interessante ragazzi che voglio mostrarvi è questa qui che riguarda il dollar cost averaging per quanto riguarda gli investimenti in Bitcoin è molto interessante perché ci dà la possibilità di capire quanto avremmo guadagnato se avessimo investito in Bitcoin a partire da luglio 2021 quindi recentemente e stiamo parlando di cifre non assurde ad esempio possiamo scegliere quanto avremmo investito 200, 180, 30 mettiamo 200 euro ogni quanto tempo mensilmente 200 euro per 3 anni e la somma totale sarebbe 7400 euro e il valore attuale sarebbe di 16041 euro quindi è molto interessante ritorno sull'investimento di 8000 dollari 120% l'everage, l'entrata dei Bitcoin sarebbe 33.299 euro quindi è molto interessante capire questo grafico per diciamo investire utilizzando il dollar cost averaging il famosissimo DCA ragazzi perché investiamo una somma fissa ogni mese ogni due settimane, ogni settimana, ogni quarto dell'anno ad esempio anche e ci dimentichiamo ovviamente il nostro investimento è lungo termine poi il prezzo di Bitcoin che tende esponenzialmente a salire ci fa guadagnare senza perdere tempo e investimenti che sono diciamo repentini e spesso anche sbagliati ragazzi adesso però voglio mostrarvi l'applicazione il sito è fatto molto bene vi lascio anche il link del sito per capire un po' meglio il tutto come funziona l'applicazione o lo specifico però adesso passiamo subito al telefono perché così vi illustro il tutto ok ragazzi questa è l'applicazione possiamo registrarci tramite Apple, tramite Google oppure tramite email io farò l'accesso tramite Google così è più veloce il tutto cosa importantissima da fare ragazzi quando ci registriamo l'account e il KYC cioè la registrazione dell'identità per far sì che possiamo utilizzare tutte le funzioni dell'app basta cliccare su continua qui bisogna inserire il passaporto, la carta d'identità oppure il permesso di residenza fare un selfie e anche ovviamente verificare il nostro indirizzo basta cliccare su continua qui compilare il tutto e il gioco è fatto ok ragazzi ho verificato l'account fortunatamente in pochissimo tempo davvero ci voglio un 2 minuti e posso iniziare già ad acquistare Bitcoin questa è la schermata che permette di acquistare Bitcoin tramite l'applicazione bisogna selezionare l'amount in euro ad esempio mettiamo 500 euro e questo sarà approssimativamente diciamo quanto riceviamo in Bitcoin per avviare poi il DCA basta cliccare su recording qui in basso poi bisogna anche selezionare quante volte investire settimanalmente due settimane mensilmente oppure ogni quarto mettiamo mensilmente basta cliccare su continua poi bisogna cliccare su continua perché ci dà la possibilità di selezionare ovviamente le nostre informazioni come l'indirizzo e poi la carta per pagare effettivamente e avviare il nostro piano di accumulo automatico quindi è molto molto semplice ragazzi qui ci viene anche mostrato la fee che avremo 4.5% e in tutto verrebbe 522,50 euro istantaneamente avviene il pagamento e ogni mese poi in automatico questi soldi verranno presi dalla nostra carta così noi non abbiamo neanche la scorciatura diciamo di ovviamente ricaricare mensilmente per utilizzare le altre funzioni ragazzi è davvero molto semplice c'è la sezione send per inviare i nostri Bitcoin fuori dall'applicazione in basso a sinistra abbiamo la sezione buy per acquistare che vi ho appena mostrato abbiamo la sezione sell per vendere Bitcoin e ricevere euro basta direzionare sempre l'amount di Bitcoin e poi riceveremo i nostri euro e poi abbiamo anche la possibilità di ricevere Bitcoin tramite l'applicazione basta cliccare qui in basso su ricevi e qui diciamo decidiamo l'amount di Bitcoin e questo qui è l'indirizzo che bisogna incollare poi sull'altra piattaforma per ricevere i Bitcoin su questo indirizzo specifico dell'applicazione qui ragazzi c'è anche possibilità di cambiare la nostra lingua in italiano basta andare in alto a destra andare su cambia lingua qui e selezionare italiano e così l'applicazione sarà in italiano abbiamo diciamo tutte le informazioni più importanti nella sezione setting e questo è davvero molto molto semplice e nella sezione impostazioni abbiamo anche tutte le altre funzioni dell'applicazione davvero molto molto semplice e intuitiva abbiamo anche un piccolo grafico qui che ci mostra il prezzo di Bitcoin nei vari giorni ad esempio in euro e davvero ragazzi semplicissimo non c'è bisogno di conoscere niente del mondo cripto in questo caso bisogna solo acquistare e vendere in modo semplice non c'è bisogno di conoscere nozioni di analisi tecnica cosa del genere abbiamo anche la possibilità di avere un'analisi del nostro portafoglio con la performance di tutti i tempi delle 24 ore il prezzo meglio d'acquisto il prezzo attuale di Bitcoin il totale investito quindi anche questo è molto importante e in questo modo non c'è bisogno di fare i calcoli da soli verrà fatto tutto in automatico dell'applicazione detto questo ragazzi loro hanno anche una pagina ex quindi se volesse seguirle è molto importante farlo per rimanere sempre aggiornati su quelli che sono i cambiamenti relativi all'applicazione stiamo parlando ragazzi ovviamente di Satoshi Labs che ha lanciato Trezor e ha lanciato anche questa applicazione quindi per questo ve ne parlo poiché è un'applicazione che è diciamo un top per quanto riguarda gli investimenti in Bitcoin come al solito ragazzi trovate tutti i link qui in basso in descrizione di questo video dategli assolutamente un'occhiata se avete qualche dubbio al riguardo come al solito lasciate un commento qui in basso perché cerco sempre di rispondervi oppure ci sono anche altri social ufficiali Instagram oppure Telegram che sono diciamo utili per contattarmi se avete qualche dubbio inderente ad inviti ma è davvero molto semplice il tutto è davvero spiegato in maniera semplicissima e l'applicazione è anche in italiano quindi non c'è nessun problema ma abbiamo anche una sessione delle domande più frequenti che trovate sul sito se avete qualche dubbio a riguardo del KYC del DCA dell'applicazione in generale detto questo ragazzi noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura vi ricordo come al solito un mi piace per supportarmi basta un click il gioco è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nulla ciao a tutti ragazzi e buona giornata grazie a tutti